Il velo si solleva fra l'emozione generale e la grande palla d'altare di Tiziano si scopre in tutto il suo rinnovato splendore. 5 metri per 2,80, l'imponente tela del martirio di San Lorenzo, dipinta intorno al 1546 e proveniente dalla Chiesa dei Gesuiti di Venezia, è arrivata in Piemonte l'anno scorso, presa in carico dalla Banca d'Alba che ne ha finanziato completamente il restauro. Un omaggio a San Lorenzo, patrono della città, ma anche alle Langhe. Noi speriamo con questo quadro di avere un richiamo in più ad Alba, non solo per l'enogastronomia, non solo per il tartufo, non solo per i vini, non solo anche per i paesaggi, ma anche per le opere d'arte e questo è sicuramente un richiamo importante. È un recupero dall'investimento e di ristrutturazione di questo palazzo, abbiamo risparmiato sugli arredi per investire in cultura. Il restauro è stato affidato al laboratorio Nicola D'Aramengo, che ha riportato alla luce l'autentica pennellata tizianesca e ha fatto affiorare anche una sorpresa. È venuta fuori una testa che era stata cancellata con delle patinature, pare che il professor Puppi aveva detto potrebbe anche essere l'autoritratto di Tiziano. Prima di tornare a Venezia, la grande tela resterà ad Alba fino a dicembre. Grazie. Grazie.